Alessandra, ciao, dove siamo? A Atene. Ma dove? Ah, su, al Partenone. Faccio vedere? Ah, sì, voglio vedere. Ah, bello, eh? Eh, sì. Vai, laggiù, cosa si vede laggiù? Cos'è quello? Tempio. Di A? Di Atena. Brava, Atena, quella dispettosa. Sì, quella dispettosa. Che ti ha fatto cascare ieri. Sì, ecco. Allora, io voglio da Zeus. Da Zeus, vai dal principale. Sì, mi relaziono solo con Zeus. Senti, ma com'è? Guarda, come ti sembra da qui la città? Allora, senti, sono le nove del mattino. Eh. No, lo dico per infuso orario. Eh. Eh, sono le nove del mattino e la città è bianca e è gigante. È gigante. È una città bianca. Tutta intorno? È gigante. È gigante. È vero? Sì, è gigante. È proprio laggiù, poi c'è il Pireo, laggiù, laggiù. Dov'è il Pireo? È il porto, è verso laggiù. Ecco, forse di là, vero il mare. Ah, forse laggiù, forse laggiù. Sì. Basta. C'è da dire altro? Sei contenta di essere venuta qua in questo sito archeologico? Sì, sì, mi piace molto. Lo vedo una volta poi chi sta. Eh, certo. Poi abbiamo fatto il biglietto cumulativo, ce ne abbiamo altri sei o sei da vedere, vero? La gorra romana, la gorra antica, il cimitero, tutto. Che tutti gli dei ci aiuti. Ciao.